ciao a tutti bentornati a pillole di storia io sono il cudo e questa è la biblioteca di alessandria la community di appassionati di storia che sta lentamente nascendo e di cui trovate i contatti su facebook su instagram su telegram in descrizione quindi se volete far parte di questa community venite iscrivete e venite a chiacchierare con tante persone che come voi sono appassionati di storia cultura cinema e tante altre cose il libro che andiamo a prendere oggi dalla biblioteca di alessandria è un libro dedicato alla mia città o meglio la mia città di adozione perché io non sono di torino ma vivo a torino e se voi giraste per la città chiedendo ai torinesi magari a quelli che ci vivono da un po più di tempo le cui famiglie sono proprio originari di torino chi possa essere considerato il più grande eroe della città molti vi faranno il nome di alex del piero che però non è quello protagonista della nostra storia anche perché non è di torino altri vi faranno il nome di valentino mazzola così abbiamo equiparato le due squadre altri ancora vi faranno invece un nome che è assolutamente credo sconosciuto al di fuori della città e quel nome è quello di pietro micca in realtà neanche pietro micca di torino perché è nato a salzano in provincia di biella nel 1677 e per curiosità anche il ragazzo che ha scritto questa pillola che ringrazio tantissimo per il lavoro fatto cioè andrea viene da biella quindi ringrazio anche lui e ringrazio insieme a lui pietro micca bando alle cianci perché pietro micca però è così famoso a torino pur essendo in realtà abbastanza sconosciuto perché lega il suo nome indissolubilmente a uno degli eventi militari più importanti della storia torinese cioè quel lungo asseglio durato parecchi mesi nel 1706 che vide la città o meglio una parte di essa la cittadella che adesso peraltro non esiste più se non in minima parte difendersi dalle forze francesi che la assediavano durante la guerra di successione spagnola ovviamente per raccontarvi gli avvenimenti legati a pietro micca è necessario fare un piccolo quadro della situazione nel 1701 era morto carlo secondo di spagna e l'ultimo degli asburgo da aver regnato sul trono spagnolo vi ricordate la dinastia degli asburgo dai tempi di carlo quinto aveva iniziato a regnare sul trono spagnolo con carlo quinto riunendo i territori degli asburgo di spagna con quelli degli asburgo d'austria e poi separando le due casate alla morte di carlo secondo però ovviamente senza successori molte nazioni europee erano interessate a mettere le mani sui domini spagnoli che erano tra i più ricchi e più potenti seppur ovviamente stavano perdendo la loro importanza rispetto al secolo precedente ma rimanevano tra gli territori più ricchi e potenti del mondo intero anche perché l'impero spagnolo si estendeva sull'america si estendeva in africa si estendeva in estremo oriente e si estendeva anche in italia con il regno di napoli ma anche con il con la lombardia ovviamente chi dovesse essere successore divenne ben presto motivo di disputa perché alcuni iniziarono a proporre di dividere l'impero spagnolo tra varie potenze ma la cosa venne rifiutata finché non si presentarono due candidati da una parte c'era filippo che era nipote di carlo secondo ma che era imparentato con luigi quattordicesimo quindi con il re sole il re di francia e peraltro rimaneva anche all'interno della linea di successione francese con il grosso rischio non solo di legare diplomaticamente i due regni ma magari in futuro di renderli un regno solo proprio nella persona di filippo dall'altro ovviamente c'erano gli asburgo d'austria che proponevano un loro candidato ovviamente per questioni di parentela dinastica lo scontro fra chi dovesse diventare il successore di carlo secondo da qui guerra di successione spagnola degenerò in una vera e propria guerra europea che comprese tantissimi stati tra cui le province unite quindi l'olanda l'inghilterra stati del sacro romano impero che si scontrarono uniti fra di loro contro la francia la spagna e loro alleati proprio per decidere chi dovesse essere il nuovo sovrano tra questi stati non ve la faccio lunga magari in futuro dedicheremo una pidola apposita uno dei partecipanti alla guerra fu l'allora ducato di savoia retto dal duca vittorio amedeo secondo il ducato di savoia inizialmente nella prima parte della guerra legò le sue fortune proprio alla francia in realtà nell'ultimo secolo ducato di savoia era stato a tutti gli effetti quasi un vassallo francese che ne controllava diplomaticamente parte del territorio e quindi all'inizio della guerra nel 1701 il duca era stato costretto proprio a legarsi ai francesi ben presto però si era reso conto che era un legame che a lui non interessava perché se avessero vinto gli altri avrebbe rischiato di essere ceduto nel durante la pace a qualche altra potenza se invece avessero vinto i francesi con i francesi che si sarebbero accaparrati anche milano il risultato era che probabilmente il ducato sarebbe stato annesso proprio alla francia quindi cosa fece il nostro duca decise di fare una cosa classicamente italiana cioè cambiò bandiera e nel 1703 decise di legarsi a coloro che invece si opponevano alla francia e alla spagna in particolare agli asburgo di cui peraltro questo immagino molti di voi lo sanno uno dei più valenti generali era quel principe eugenio che del duca vittorio era un vittorio amedeo era un cugino e che comandava parte delle truppe austriache nel 1706 però questo cambio di fronte portò ad un attacco da parte francesi francese della città di torino che giunsero con l'esercito e misero torino sotto assedio dopo aver conquistato tutte le altre piazze forti in piemonte il 14 maggio 1706 quando inizia l'assetio il nostro pietro micca ecco che torniamo al protagonista del video si trovava proprio a torino lui inizialmente aveva fatto tutto un altro mestiere era falegname come come il padre ma a un certo punto rimasto senza lavoro aveva deciso di arruolarsi proprio nelle forze armate sabaude ed era stato messo in un reggimento minatori per la sua forza cioè per quei reggimenti che si occupavano di costruire e di mantenere in funzione le gallerie che all'epoca venivano utilizzate da parte degli assedianti per cercare di distruggere le mura di chi veniva assediato e da parte di chi appunto veniva assediato per distruggere le gallerie degli assedianti in una serie di scontri che vedevano da una parte i francesi scavare per buttare giù le mura dall'altro i piemontesi scavare per distruggere i tunnel francesi quindi il risultato che molto spesso i due tunnel si trovavano a confliggere si erano scontri da una parte e dall'altra che portavano ovviamente a distruzione di una o dell'altra o dell'altra galleria spesso utilizzando peraltro proprio della polvere da sparo il nostro era stato messo proprio a fare quel servizio un po per la sua prestanza fisica un po perché passava per essere un uomo in grado di infilarsi letteralmente dovunque tanto da essersi meritato il soprannome di passepartout la cittadella di torino aveva in effetti un grosso sistema di gallerie il cui scavo era addirittura risalente a prima dell'assedio che erano state costruite si chiamavano gallerie di contromina proprio in previsione di un eventuale assedio la forma stellata della cittadella di torino aveva fino a quel momento permesso di resistere all'assedio l'assedio in realtà era stato molto pesante i francesi erano numerosi avevano costantemente bombardato la città e quasi tutti i cittadini che avevano all'interno della cittadella erano stati utilizzati dal duca che aveva difeso la città nei primi mesi per cercare proprio di contrastare gli attaccanti alcuni reclutati nell'esercito qualcuno messo come il nostro pietromica a lavorare alle gallerie piuttosto che alle mura molti addirittura semplicemente arruolati per curare i feriti piuttosto che per spegnere i numerosi incendi che si aprivano nella città ad un certo punto il duca aveva deciso però di lasciare la città con un gruppo di circa 4000 cavalieri aveva lasciato nottetempo la città e aveva iniziato ad attaccare i francesi alle spalle per cercare di allontanarli dalla città senza però riuscire a ottenere nulla e il nostro pietromica beh il nostro pietromica continua va suo lavoro nelle gallerie fino a quando il 30 agosto 1706 la storia bussò alla sua porta quella notte tra il 29 e il 30 agosto pietromica insieme a un compagno si trovava di guardia proprio una delle gallerie quando sentì letteralmente bussare ma non era la storia bussare ma erano i francesi che stavano che avevano scoperto le gallerie stavano cercando di sfondare la porta che dava accesso ovviamente alla galleria principale per cercare di sciamare all'interno della città quando pietromica se ne accorse si rese conto che non c'era tempo di arrivare di mandare a chiamare aiuto e che l'unico modo di fermare i francesi era quello di far saltare quella galleria purtroppo dopo aver portato l'esplosivo si dice all'incirca 20 chili di polvere nera pietromica si rese conto insieme al compagno che l'unica miccia il filo che permette di accendere a distanza ovviamente la polvere che avevano a disposizione era troppo corta e non gli avrebbe permesso di poter scappare ora le versioni a questo punto differiscono ma quella che si racconta più spesso a torino e che a questo punto pietromica girandosi verso il compagno gli avrebbe detto in piemontese auste kateipi lunga che ha una giornata senza pan che tradotto vuol dire alzati che sei più lungo di una giornata senza pane lungo in piemontese vuol dire lento lungo nel senso di lento non so perché si dica così quindi avrebbe detto vattene perché tu sei lento io ho più chance di salvarmi e appena il compagno si è allontanato si era allontanato avrebbe acceso la miccia cercando a sua volta di scappare purtroppo la miccia era troppo corta e mentre stava salendo la scala che non l'abbè portato verso la salvezza venne colpito dall'esplosione l'assedio durerà ancora sette giorni sette giorni dopo infatti il duca medeo insieme al cugino il principe eugenio di savoia e a 20.000 austriaci arriverà a torino e dopo aver osservato l'assedio che ancora durava sconfiggerà le truppe francesi ricacciandole indietro la vittoria di torino nei fatti permise al ducato di savoia di liberarsi dal gioco francese con la pace che porrà fine alla guerra di successione spagnola che peraltro vedrà proprio filippo diventare re di spagna ma la lombardia passare all'austria il ducato di savoia verrà elevato a regno otterrà dei territori otterrà l'indipendenza e secondo alcuni questa battaglia un po l'inizio delle guerre risorgimentali secondo me è un pochettino presto per parlarne ma alcuni la vedono in questo modo pietromicca col tempo divenne un simbolo divenne il simbolo di torino simbolo della lotta contro l'invasore francese e in centro a torino c'è una via dedicata proprio a lui che via pietromicca che è una delle vie proprio principali del centro in realtà probabilmente questa figura è stata un pochettino mutata nel tempo perché tutto ciò che abbiamo di cronache dell'epoca parlano in effetti di un pietromicca o meglio della vedova di pietromicca che avrebbe chiesto una pensione di guerra a nome del marito riferendo che era morto proprio durante la battaglia ma seguendo gli ordini del suo comandante quindi che non avrebbe compiuto un gesto eroico ma sarebbe purtroppo morto nell'adempimento del dovere che rimane eroico ma ovviamente molto diverso in realtà questa figura inizia a diventare si allontana dal personaggio reale e inizia a diventare personaggio mitologico solamente una cinquantina di anni dopo quando intorno a pietromicca si crea tutto un corpus mitologico fino a metà dell'ottocento pietromicca diventa veramente un eroe risorgimentale che lotta contro lo straniero tanto che la frase che vi ho riferito prima che è quella che viene comunemente raccontata qua a torino diventa un lungo monologo in cui pietromicca avrebbe parlato di patria morire per la patria dire ai figli che lui moriva per la patria cose francamente un po ridicole visto il periodo e visto che all'epoca stavamo parlando del ducato di savoia e non di una patria italia come qualcuno a posteriori voleva vedere insomma pietromicca a cui peraltro torino rimane comunque molto legata è un personaggio probabilmente più iconico che reale l'ultima curiosità che vi lascio è che probabilmente anche il nome pietromicca non è vero perché secondo alcuni il vero nome sarebbe stato pierre minciu e pietromicca sarebbe stato ovviamente una sua italianizzazione da pierre a pietro e una variazione da micciu a micca qualcuno a torino lo chiama pietromiccia qualcun altro pietromicciacorta ma questo è secondario spero che questa storia vi sia piaciuta ringrazio ancora andrea che mi ha scritto praticamente tutta questa pillola lo ringrazio tantissimo se volete anche voi partecipare a scrivere delle pillole venite sul gruppo facebook o venite sul canale telegram se non volete perdervi le prossime pillole iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella sarete sempre aggiornato ogni volta che esce un nuovo video io come al solito vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun registro ormai la fantasia di mettere nelle loro opere e se volete iniziare a curiosare qua a fianco c'è l'elenco delle pillole uscite fino adesso noi ci vediamo domani con un'altra pillola di storia a domani ciao ciao